segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te dibattito qui c'è un esponente del partito più importante che sostiene la maggioranza di governo cosa ha da dirgli a boccia o a boccia pd draghi ma in realtà il partito democratico è un partito di massa un partito grande esperime anche posizione all'interno non dico contraddittori ma abbastanza dissimili una rispetto all'altra io boccia forse lo sa in questo momento storico credo che non vi sia un politico più distante da me di letta per le posizioni che sta prendendo l'atteggiamento che ha avuto dal primo giorno della guerra e il suo sostanziale allontanamento credo anche dalla base elettorale del partito democratico che credo più saggia di lui letta insieme a draghi hanno preso posizioni diciamo estremiste dal punto di vista atlantistico io ribadisco che per me atlantismo europeismo non sono sinonimi l'interesse dell'europa soprattutto in questo momento non coincide con l'interesse americano e quando ascolto draghi fare l'esegesi della difesa europea dell'esercito europeo a bruxelles credo fosse oggi ricordo che il nostro continente al di là della guerra in ucraina non sarà mai libero se continuerà ad appaltare la sicurezza la nato che un'organizzazione un tempo difensiva trasformata sia negli ultimi vent'anni organizzazione offensiva particolarmente destabilizzante per la stessa sicurezza europea fondamentalmente guidata e comandata degli americani insomma l'unione europea che nacque pensando ai padri dell'unione europea da spinelli ad altri con l'idea di affrancarsi anche politicamente in un certo senso anche da poter stare sicurezza dal gioco americano mai come oggi è succube degli stati uniti d'america francesco boccia ad alessandro di battista ho sempre ricordato quando era in parlamento e anche quando eravamo in posizioni diciamo distanti sul piano parlamentare abbiamo sempre ricercato il dialogo ho sempre ricordato la fatica della politica che è diversa dalla scorciatoia della propaganda del populismo dell'imbettiva e la fatica della politica è quella che ci ha consentito e lui ne è stato in parte coprotagonista anche se da spettatore quello di avvicinare il movimento 5 stelle penso a quando alessandro sfilava con i gilet gialli con accanto luigi di maio che poi è diventato ministro degli esteri della repubblica italiana un ministro degli esteri profondamente impegnato nel rafforzare l'europa erano gli anni in cui lui probabilmente pensava che la scorciatoia fosse la scorciatoia che la soluzione fosse la protesta e noi pensavamo la soluzione fosse la politica e grazie ad un lavoro faticosissimo noi nel giugno del 2019 portammo il movimento 5 stelle a votare per la commissione von der leyen e iniziò una stagione politica nuova in europa che ha portato lo stesso presidente conte presidente del consiglio oggi leader del movimento 5 stelle a chiudere uno dei negoziati più importanti in uno dei momenti più drammatici della storia europea però lui dice la ricostruzione dell'europa dopo la pandemia e con la pandemia oggi siamo un'altra fase della storia se siamo arrivati in quelle condizioni e perché c'è stata meno europa di quella che doveva esserci la la nato è un'organizzazione difensiva possiamo decidere di dibattere sul passato ma penso non sia utile né a me né ad alessandro penso che abbiamo il dovere di discutere su come rafforziamo l'europa letta che vive per strada ognuno di noi diciamo è controllabile sulle attività che fa non solo dalla stampa dalle tv ma anche dei social penso letta faccia cinque sei incontri al giorno per strada sta facendo delle proposte mi auguro sulle quali si possa esprimere anche di battista non è un discorso sulla natura e l'identità dei partiti noi abbiamo proposto una confederazione in europa intanto si ma c'è la guerra ho capito ma la posizione sulla guerra la posizione sulla guerra nostra è molto chiara noi non possiamo lasciare un paese che ha perso cinque milioni di persone cinque milioni di persone che quando parliamo di ucraina e russia dobbiamo pensare che cinque milioni di persone sono state tirate fuori dalle case e oggi non vivono più nel loro paese il punto di cinque milioni di persone noi abbiamo il dovere non solo di difenderli ma di rimetterli nella condizione di tornare a casa detto questo dobbiamo guardatevi tra di voi non guardate me se non devo giocare con le camere diciamo per non scomodare socrate ogni guerra è condizionata da pesanti interessi economici e putin non si è mosso per una passione particolarmente diciamo raffinata e civile ma si è mosso in un quadro complessivo inseguendo una visione pesantemente alternativa nei europei non metta tutto insieme dico semplicemente una cosa in questo momento sono morti come era il discorso sono usciti cinque milioni di persone sono dovuti scappare la propria parte il pd non metta pure papa francesco ha messo tutto ci ha messo il covid ci ha messo papa francesco stiamo sulla guerra prego perché per me è importante parlare anche della nato non per giustificare giustificare una guerra d'invasione che per me è un crimine ancora di più in quanto guerra preventiva perché se si vuole la pace un negoziato bisogna riconoscere delle ragioni dell'altro il che ripeto non giustifica oggi il santo padre per me è un capo di stato di uno stato estero io sono un laico anche se sono come dire credi uno stato laico oggi papa francesco credo che si sia comportato davvero come un capo di stato e con un uomo di pace mi sarebbe piaciuto che delle parole anche critiche pronunciate con garbo e con diplomazia perché questo fa papa bergoglio rispetto alla nato avesse pronunciate il migliore tra i migliori il nuovo de gaulle la nuova merkel il nuovo de gasperi draghi proprio perché se si vuole fare un negoziato partire anche dalle problematiche dalle preoccupazioni dell'altro tenendo presente che se si vuole la pace bisogna concedere qualcosa all'altro è fondamentale per questo parlare dell'espansionismo della nato della genealogia della guerra in ucraina non significa giustificare un'invasione cercate di alternarvi in maniera più sintetica abbiamo altri ospiti che devono parlare per ricostruire un terreno di negoziato altrimenti i 5 milioni di profughi francesco diventeranno 10 e 3.200 morti civili ad oggi diventeranno 20.000 30.000 40.000 se si fa col nemico boccia non c'è dubbio non bisogna mai smettere di ricercare la pace ma come la stiamo cercando dice lui la stiamo ricercando in questo momento guardi quando si dice che la diplomazia ha fallito non è che ha fallito oggi la diplomazia purtroppo ha fallito ieri quando bisognava costruire le condizioni di un dialogo che non ci sono state e purtroppo ci sono stati errori da parte di tutti detto questo a me interessa oggi uscire da questa condizione i 5 milioni di profughi che rischiano di diventare 10 sono una cosa che deve spingerci tutti a chiedere a Putin di fermarsi oggi papa francesco dice una cosa molto forte e mette insieme il disastro umanitario in ruanda con delle responsabilità collettive io penso che si debba fare tutto quello che nelle nostre possibilità per chiedere a Putin di fermarsi e devo dire va fatto con gli strumenti dell'Europa che non sono gli strumenti degli Stati Uniti Antonio Cabranica poi parleremo degli Stati Uniti